E' una nicchia del turismo internazionale. Parliamo del settore dei congressi a Torino. Nei prossimi anni ne arriveranno molti con sperate, ma anche evidenti ricadute, il servizio. Torino è una città nuova. Non è conosciuta, è sempre un'enorme sorpresa. Quindi piuttosto che tornare in città più note, già viste, una volta che scoprono Torino sono molto soddisfatti e tornano anche. Per le dette lavori è la novità il punto di forza di una città come Torino. Si spiegano così gli ultimi successi nel campo del turismo congressuale. L'ultimo risultato è il meeting mondiale degli editori nel giugno dell'anno prossimo, ma l'agenda è fitta. Congresso europeo dei sociologi quest'estate, le camere di commercio nel 2015, gli architetti del paesaggio nel 2016. Cercano città sicuramente con infrastrutture sicure, comode, un'accessibilità facile a livello internazionale, una buona offerta alberghiera. Il congressuale è una nicchia preziosa del turismo. Secondo Turismo Torino, per un congresso nazionale di 5.000 persone ci sono almeno 10 milioni di euro di ricadute, molto più alte per un evento internazionale. Sono congressi più lunghi, gli spostamenti, quindi la spesa per i trasporti è superiore. normalmente si fermano o primo o dopo il congresso per fare shopping o per visitare i musei e quindi cresce la spesa pro capite.